Grande divertimento a New York per Elisabetta Gregoraci che è volata nella grande mela con Nathan Falco, il figlio 12enne avuto da Flavio Briatore per festeggiare Halloween. I due hanno partecipato al famosissimo party organizzato ogni anno da Heidi Klum, presente anche la figlia della supermodel Leni, avuta 18 anni fa proprio con Flavio Briatore. Nathan ha così potuto passare un po' di tempo con la sorella maggiore. Se mamma Elisabetta ha scelto un costume da diavoletta, Nathan si è travestito da Michael Myers della saga cinematografica di Halloween.